Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questa domenica 3 aprile ancora tanta instabilità. La troveremo al nord, sulle regioni del sud. Leggero miglioramento invece al centro Italia. Avremo ancora qualche piovasco, qualche fiocco di neve in montagna. Però nulla di particolarmente significativo. Miglioramento più marcato sulle isole maggiori. Difatti avremo un miglioramento che poi incloberà tutta Italia ad inizio settimana. Per quanto riguarda questa domenica in Abruzzo, giornata ancora instabile nelle prime ore della giornata tra notte. Nelle prime ore del mattino ancora possibilità di nevicate sparse sino in alta collina. Sui settori meridionali, sulla Maiella in particolare. Più asciutto altrove, anche delle schiarite in arrivo lungo le coste. Poi tra pomeriggio e sera tempo nel complesso più stabile. Con cieli poco nuvolosi. Qualche fenomeno ridosso dei monti. Però nulla di che. Le temperature piuttosto basse per il periodo da pieno inverno, minime tra i meno 3 e i 4 gradi massime, che a bassa quota non andranno oltre 10-11 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni